amore amore la passione d'amore la festa di san valentino che appena trascorsa beh sul fatto quotidiano ho letto un meraviglioso articolo relativo all'amore io questo meraviglioso articolo ho letto sul fatto quotidiano e ve lo metto come l'inna riassunto di questo video così voi lo potete leggere nella sua interezza beh fatto quotidiano è ma la prossima volta che scrivi un articolo relativo all'amore all'amore alla passione d'amore devi citare serafino massoni capito fatto quotidiano beh perché in questa mia opera storico mitologica l'articolo del serpente per l'appunto si parla di come nasce la passione d'amore beh l'articolo scritto sul fatto quotidiano è interlocutorio cioè si pone tante domande tante domande a queste domande però aveva già risposto serafino massoni in questa opera qua si descrive come nasce la passione d'amore la passione d'amore nasce in patriarcato in patriarcato non c'erano le passioni c'erano solo i sentimenti i sentimenti sono dolci sono dolci e invece le passioni sono 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 tra virgolette sono un po insanguinate motivo per il quale io ho definito l'amore è quella forza che sposta le montagne ma spesso e volentieri ti fa ti fa finire in tribunale oppure all'ospedale e qualche volta al cimitero beh in fin di conti la cosiddetta passione d'amore nasce quando un uomo una donna e si rendono conto che facendo attività sessuale e hanno un vantaggio reciproco la donna è più e più circospetta più circospetta perché la donna poi corre il rischio di restare incinta e se resta incinta da da un fannullone un fannullone chi è che lo mantiene il bimbo c'è la donna sta più attenta è del concedersi fa i suoi calcoli la donna che sia chiaro ma ma anche anche gli uomini fanno i loro calcoli e anche gli uomini insomma morale della favola morale della favola si è una una costruzione che si basa su interessi e su tanti interessi la passione d'amore si basa su tanti tanti interessi si fanno dei calcoli si fanno dei calcoli e non ci deve essere uno squilibrio uno uno squilibrio e ci deve essere una parità una reciprocità beh insomma morale della favola è fatto quotidiano la cosa più bella che tu possa fare a questo punto è procurarti una copia di questa mia opera caro fatto quotidiano e faccio una bella recensione beh ormai sono sono migliaia 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 in italia coloro che conoscono questa opera che l'hanno letta e coloro che hanno letta conoscono i miei video per cui fatto caro fatto quotidiano ciliegina sulla torta fai una bella recensione alla stilpe del serpente di sera fino massoni ok fatto quotidiano a te e a tutti voi tanti cari saluti da dalla stilpe del serpente a te e a tutti voi tanti cari saluti da dalla stilpe del serpente di